Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e sul canale di Tarell Academy. In questo video vogliamo presentarvi uno strumento molto semplice, ma allo stesso tempo estremamente utile per chi si occupa di investimenti o trading di lungo periodo. L'oggetto del video è infatti un foglio di calcolo sviluppato in Excel che vi permetterà di scaricare, con un semplice clic del mouse, i dati storici di qualunque strumento finanziario, direttamente dal database di Yahoo Finance, che poi potrete usare per fare le vostre analisi personali, costruire strategie e perché no anche verificarle nel passato. Oltre a questo video vorremmo dare il via ad una nuova playlist dedicata proprio all'utilizzo di Excel per applicazioni finanziarie. Vi chiedo quindi di mettere un like al video o ancora meglio scrivere un commento per farci capire che questo tipo di argomenti vi possono interessare e quindi giustificare l'impegno e le enorme quantità di tempo necessarie per realizzarli. Bene, mettetevi comodi e rimanete fino alla fine per sapere dove potrete scaricare il file Excel che vi anticipo sarà gratuito solamente per un periodo di tempo limitato. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. A tra poco! Ciao e bentornati. Sono del parere che Yahoo Finance è uno dei provider di dati finanziari più utilizzato a livello retail. Il suo database contiene infatti i dati storici di moltissimi strumenti finanziari, tra cui titoli azionari, indici di riferimento, ETF, fondi di investimento, future, commodity e materie prime. La cosa più importante, tra l'altro, è che è tutto gratuito e sono facilmente reperibili. Ma passiamo quindi al file Excel e vediamolo nel dettaglio. Il file si chiama Yahoo Finance Data Downloader e lo potrete scaricare direttamente dal nostro sito online. Si tratta di un file con estensione xlsm in quanto contiene delle macro che permettono appunto il download dei dati dal database di Yahoo Finance. Una volta scaricato è possibile che quando aprite il file Excel ve lo blocchi dando un allarme di rischio per la sicurezza. Lo riconoscete dalla barra rossa della parte superiore. Quello che dovrete fare è chiuderlo, cliccare con il tasto destro del mouse sul file, selezionare la voce proprietà e poi annulla blocco. A questo punto potete quindi riaprirlo e funzionerà correttamente. Bene, il file è composto da tre fogli. Nel primo trovate i nostri riferimenti con cui potete contattarci o scriverci. Nel secondo avete il downloader vero e proprio ed infine nel terzo foglio trovate delle semplici procedure per la risoluzione di alcuni problemi tecnici che potreste incontrare, che comunque vediamo tra poco. Andiamo direttamente nel foglio centrale. Come vedete la struttura è molto semplice. Nella parte superiore abbiamo una finestra per l'inserimento dei dati, un pulsante per scaricare i dati storici da Yahoo Finance e nella parte inferiore la tabella con i dati dello strumento finanziario di nostro interesse. Le informazioni da inserire sono semplicemente quattro. Il primo è ovviamente il ticker dello strumento finanziario, che vi ricordo deve essere quello utilizzato da Yahoo Finance. Chiaramente Yahoo Finance utilizza gli stessi ticker utilizzati in borsa. In alcuni casi però, come per esempio gli ETF, è necessario aggiungere alla fine del ticker il suffisso che fa riferimento ad una specifica borsa, per esempio .MI per la borsa di Milano. Controllate quindi sempre che il ticker che inserite sia corretto. Nel caso doveste avere dubbi, potete cliccare sul punto di domanda e accederete direttamente al sito di Yahoo Finance per poter verificare. Facciamo un semplice esempio per chiarire ogni dubbio. Ipotizziamo di voler scaricare i dati dell'ETF dell'iShares che replica l'indice MSI World, il cui ticker è svda. Inseriamo quindi svda, lasciamo stare per il momento le altre impostazioni e premiamo il pulsante. Vedete che il file esegue automaticamente un controllo e vi restituisce un messaggio in cui vi avverte che non ha trovato il ticker di vostro interesse e vi invita a controllare. Questo perché dovete aggiungere il suffisso della borsa di vostro interesse. aggiungiamo quindi .mi per la borsa di Milano, premiamo nuovamente il pulsante ed ora nel giro di pochi secondi i dati vengono scaricati. Proseguiamo con i dati di ingresso e troviamo la data di inizio e di fine storico. In questo caso ho preimpostato come data di fine storico la data di oggi tramite la funzione uguale oggi aperta e chiusa parentesi ed ho selezionato come data di partenza esattamente un anno fa. Ovviamente voi potete scegliere le date che preferite. Se per sbaglio inserite una data di fine storico antecedente a quella di inizio il programma vi restituisce un avviso. Infine l'ultimo dato da selezionare è il time frame. Yahoo Finance vi permette infatti di scaricare i dati con time frame giornaliero, settimanale e mensile. Dal menu a tendina potete quindi scegliere quello più adatto ai vostri scopi. Come abbiamo già visto una volta impostati i dati di input è sufficiente premere sul pulsante ed in pochi secondi avrete a disposizione i dati storici dello strumento finanziario di vostro interesse. Più nel dettaglio avete la data di riferimento, il prezzo di apertura, quello massimo, minimo, di chiusura e quello di chiusura rettificato per frazionamenti o distribuzioni di dividendi. Infine avete anche il volume degli scambi giornalieri settimanali o mensili in funzione del time frame selezionato. Per ogni voce sono inoltre attivi filtri che vi permettono appunto di filtrare i dati o riordinarli come preferite. Questo può essere utile nel caso dobbiate fare delle analisi particolari. Questi dati sono naturalmente modificabili o copiabili per cui potete copiarli ed incollare su altri fogli di calcolo oppure potete aggiungere dei grafici direttamente su questo foglio, costruire un pannello per l'analisi di mercato o programmare una strategia che potreste utilizzare per l'apertura e la chiusura delle vostre operazioni di investimento. Come vedremo nel prossimo video con Excel è infatti possibile realizzare delle strategie di trading e di investimento e backtestarle con pochi e semplici passaggi. Per concludere nell'ultimo foglio trovate delle semplici procedure nel caso incontriate dei problemi nell'utilizzo del file. Se infatti vi compare un errore nel momento in cui premete il pulsante di download probabilmente non avete attivato le macro e seguendo questi step risolverete il problema. Inoltre i dati scaricati da YouFinance richiedono la formattazione statunitense con il punto come separatore dei decimali e la virgola come separatore delle migliaia. In questo specchietto trovate la procedura per correggere questa impostazione. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e abbiate trovato interessante ed utile questo file. Si tratta di uno strumento molto semplice ma sono sicuro farà risparmiare molto tempo a chi è abituato a scaricare manualmente i dati dai vari provider che si trovano online. Per scaricarlo non dovete far altro che andare sul sito di Tirel Capital, andare quindi sullo shop online, selezionare la versione in italiano o in inglese in base alle vostre preferenze, completare la procedura di acquisto che è necessaria anche se al momento il file lo mettiamo a disposizione gratuitamente e verrà scaricato immediatamente in modo automatico e lo troverete nella cartella di download del vostro pc. In cambio vi chiedo solo di metterci un like ed un commento per farci sapere come l'avete trovato e se avete degli spunti interessanti per migliorarlo. Infine per chi fosse interessato a sviluppare il proprio foglio di calcolo personalizzato per eseguire le proprie analisi di mercato, per realizzare watchlist da aggiornare in modo automatico o per eseguire backtest di strategie di investimento può contattarci o fissare una call tramite il link che trovate in descrizione e saremo ben felici di analizzarlo insieme e supportarvi nello sviluppo. Bene per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo visto fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!